Salve, e sono Federico Feglini. Gretto, che sto a noi siamo a scuola. Abbiamo pure la nascolta. Non lavora con noi. Datemi un parere su questa novella. Sul giovane Federico. Sì, ma questa fa ridere. Signore e signori, è il momento della macchetta. Con questo pezzo in particolare l'ho scritto io. Dice, è molto da dal cinema. Aveva una certa attrazione, fin da ragazzetto, verso certi personaggi che venivano considerati stravaganti, cioè gli artisti. Arcevi, devo dire una cosa al signor Scola. Scusi, ma perché i miei suoi film fanno un figlio così brutto? Se non mi hanno fatto nessuno. Come io, madre. Lui Federico, io Ettore. Lavoriamo nel cinema.